Fuori tutti i numeri del nuovo Consiglio Comunale di Pescara, targato Marco Alessandrini. A comporre la maggioranza 20 consiglieri, suddivisi in quote. Al PD spettano 12 seggi. A ricoprirli ci sono Antonio Blasioli, Paola Marcheggiani, Sandra Santavenere, Giacomo Cuzzi, Enzo Del Vecchio, Francesco Pagnanelli, Giuliano Diodati, Antonio Natarelli, Carlo Silvestro Gaspari, Emilio Longhi, Marco Presutti, Piero Giampietro. Per la lista scegli Pescara della lista Teodoro due seggi, Massimiliano Pignoli e Piernicola Teodoro. Due seggi anche a SEL che vedranno protagonisti Giovanni Di Giacomo e Ivano Martelli. Ad Elchi sul pizio è Riccardo Padovano per Liberali, Centro Democratico Popolari. Pescara insieme Bene Comune si guadagna un solo seggio, ricoperto da Lola Gabriella Berardi. Infine per persone comuni per Pescara un seggio per Adamo Scurti. L'opposizione si vede composta da 12 seggi così distribuiti. Nove per il centro-destra. Cinque di competenza Forza Italia rappresentati da Vincenzo Dincecco, Marcello Antonelli, Eugenio Seccia, Fabrizio Rapposelli e l'ex sindaco Luigi Alboremascia. Per il nuovo centro-destra tre i seggi, uno all'ex candidato sindaco Guerino Testa e con lui Alfredo Cremonese e Massimo Pastore. Un solo seggio per Pescara Futura con Carlo Masci. Gli altri tre seggi all'opposizione sono per il Movimento 5 Stelle, uno all'ex candidata Enrica Sabatini e con lei Erika Alessandrini e Massimiliano Di Pillo. E proprio dal Movimento 5 Stelle nascono le prime polemiche relative alla distribuzione dei seggi. Rivendicano il quarto soffiato alla pentastellata Emanuela Galli all'ingresso di Padovano. Un'altra polemica con la quale dovrà fare i conti il neo eletto sindaco Alessandrini è quella che vede una rottura in corso con la lista Teodoro. Due seggi che a causa di accordi mancati sulle cariche da assegnare potrebbe vedere i due rappresentanti passare nelle fila dell'opposizione per vedere cambiare l'equilibrio tra maggioranza e opposizione da 20 a 12 a 18 a 14, senza neanche aver fatto suonare la campanella del primo consiglio comunale. Tra le indiscrezioni c'è una notizia sulla giunta. Pare che saranno otto gli assessori. Nessuna chance per Teodoro che vedrebbe sfumato il suo posto in giunta in favore di una donna. In particolare si parla di un'esperta di diritto tributario alla quale si vedrebbe aggiudicata la delega al bilancio e ai tributi. Tra oggi e domani è prevista la conclusione del quadro di giunta per il sindaco Alessandrini. Subito dopo l'ufficializzazione dei nomi e delle deleghe e poi l'avvio dei lavori nell'era PD.